ringraziamo Porta Ventosa, grazie, un grazie speciale a voi che siamo stati qui tutti quanti insieme a guardarci negli occhi, grazie, lavatevi rientro, ciao la signora Andrea scappa Petra che è sempre la persona che mi dà in là, io con Andrea voglio fare una cosa, falla, io la faccio grazie Andrea